Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In A1 ci sono code tra Firenze Sud e in Cisa Reggello in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Nord e il BVO1 variante in direzione Bologna. In A12 code per traffico in uscita Rosignano Barriera in direzione Rosignano, code anche tra Rosignano Barriera e l'allacciamento con l'Aurelia. In FIPILI per lavori il 10 luglio in orario 9.18 sarà chiusa la rampa di uscita Livorno-Aurelia in direzione Firenze. Oggi in Toscana la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi, evitare le ore più calde della giornata, specie se l'auto non è climatizzata e portare sempre con sé una scorta d'acqua. Si ricorda la programmazione di uno sciopero del personale di Trenitalia in programma per la giornata di giovedì 13 luglio. Muoversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!